Ciao ragazzi! In questi mesi abbiamo notato tantissimo il trend delle labbra dall'effetto bagnato. Per questo oggi sono qui per raccontarvi tutte le novità del nuovissimo lancio in casa mesauda, ovvero Hydramorphosis, il balsamo labbra colorato dall'effetto rimpolpante. Un vero e proprio trattamento idratante e volumizzante per labbra morbide, piene e juicy. Questo straordinario balsamo attenua le righe sottili, stimolando il microcircolo e regalando così un maggiore aumento di volume. La texture ultramorbida presenta una sensorialità ibrida tra un olio e un gloss, che ravviva immediatamente le labbra con un dedicato accenno di colore. Il prodotto facilissimo da applicare rimane adeso sulle labbra senza timore che possa migrare. Un insieme di sostanze curative come olio di semi di jojoba, karité e burro di mango assicurano un'applicazione emolliente per labbra morbide ed elastiche, mentre il complesso volume 3 rafforza l'idratazione profonda e aumenta la definizione e il contorno delle labbra. Il complesso volume 3 presenta il potere combinato di tre straordinari principi attivi. Lip Power Spheres in dosaggio funzionale. Le sfere aumentano il volume delle labbra legando più acqua all'interno e danno un potente effetto riparatore per labbra secche e screpolate. Burro cacao botanico, attivo, levigante e volumizzante, composto da estratto di frutta di capsico, olio di radice di zenzero e olio di soia. Lip Rewind, peptide in dosaggio funzionale che restituisce compattezza e dotazione alle labbra. Il pack presenta un rivestimento in alluminio. Sul cap invece è presente il logo mesauda a rilievo e presenta una chiusura facilitata a click. Per finire al suo interno troviamo la iconica tramatura delle M con una finitura opaca. Le tonalità che abbiamo sviluppato sono Skillful, trasparente dal leggero riflesso rosa freddo. Inspire, nude rosato chiaro caldo. Ambition, nude rosato medio freddo. Mindset, nude nocciola neutro. Achieve, nude caramello caldo. Fearless, nude marrone rosso caldo. Empower, rosa rosso intenso. Challenge, viola berry delicato. Non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate di questa novità ma soprattutto qual è la vostra shade preferita. Un bacio e a presto!